Tre auto incendiate, freste e anche un SUV della polizia, agenti feriti, operatori dell'informazione aggrediti come è successo al collega del Nuovo Quotidiano Ivan Tortorella finito in ospedale dopo essere stato colpito da un gruppo di tifosi solo perché stava facendo il suo lavoro. All'indomani dei disordini arriva il momento della conta dei danni e proprio nelle scorse ore i funzionali del Comune di Lecce hanno eseguito un sopralluogo allo stadio di Via del mare per verificare la situazione. Da una prima stima i danni sembrano essere piuttosto contenuti, dall'ufficio in piantistica sportiva assicurano i danni non superano i 2000 euro. La furia dei tifosi si è sfogata sulle vetrate d'accesso agli spogliatoi, su alcuni sedili e su un paio di idranti e all'esterno della struttura sportiva sono ancora ben visibili i segni dei tafferugli, pietre e sassi ovunque, vetri rotti, scarpe evidentemente smarrite durante la fuga. La condanna agli autori di tanta violenza arriva anche attraverso i social network. Su Facebook il capogruppo di Lecce Bene Comune, Carlo Salvemini, commenta così Andrò controcorrente ma continuo a pensare che l'immagine di una città nel bene e nel male è qualcosa che va oltre i successi e gli insuccessi sportivi e i comportamenti della tifoseria. Questi episodi, conclude, sono gravi in quanto tali non perché gettano ombre sull'attrattiva di una città. Per il consigliere regionale Rio Congedo si tratta di una delle pagine più brutte della storia del calcio a Lecce. Purtroppo, scrive in una nota, resterà in secondo piano lo splendido applauso finale di gran parte dello stadio ai giocatori del Carpi che hanno vinto dimostrando quell'attaccamento alla maglia che è mancato ai nostri giocatori. Per il deputato PD Salvatore Capone non è concepibile che un manipolo di scalmanati sancisca in questo modo violento e responsabile la fine di una partita e di un campionato, distruggendo quel che c'è da distruggere, aggredendo pubblico, operatori dell'informazione, agenti di polizia. Non è questa la tifoseria di cui ha bisogno la nostra squadra di calcio, scrive, né tantomeno è questo il modo per affrontare la delusione di un campionato andato male.